Dopo l'uscita del modello per Ford Vestalia Nugget e Ford Tone Custom nel gennaio 2018, Savico lancia un reportamoto in versione Agito Van dedicato al Fiat Ducato. Il nuovo prodotto celebrerà il proprio debutto al pubblico al CMT 2019 di Stoccarda e sarà disponibile a partire dal marzo 2019 dai rivenditori specializzati o direttamente nei centri assistenza Alco.